Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1, 2 km di coda per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Firenze Impruneta e Incisare Gello in entrambe le direzioni. Passiamo sulla 11 dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze e tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Uno sguardo alla FIPI lì dove a causa di lavori si segnalano 3 km di coda tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, 2 km di coda invece in direzione Firenze. Da segnalare anche code in uscita a causa del traffico intenso alla Strassigna provenendo da Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!